Signori e signori, il capitano, Marco Rossi, non è più capitano ma per tutti è capitano e lui il derby lo vive in una maniera particolare, come è il derby di Marco Rossi? Adesso da tifoso, quindi vivo in maniera come vivono tutti i tifosi da quello giocato ci avrei tante aneddote da parlare, dai visi pallidi al gol di Boselli al mio gol, il derby vinto con il mio gol, alla Rendetevi di Salucci che fu splendido al quarto pallo che si prese, però mi piace ricordare il fatto che io penso con Iuric, Milanietto e Cristo siamo quelli che abbiamo vinto tutti i derby e Scarpi, la manita dei derby è la vostra e sicuramente ci fa presente anche il fatto che con Blondet ogni fine derby se si vedeva nello spogliatore ci si abbracciava e c'era l'escalation di uno, due, tre, quattro e cinque quindi sono ben ricordi che mi porterò dentro per sempre Grazie Marco Rossi